Io l'avrei voluta invitare qui a Belve anche prima, però mi sembrava fin troppo scontato invitarla a Belve, quindi mi volevo scusare per il ritardo, il motivo è questo. Bene, molto bene. Il suo soprannome è Pitonessa, la Pitonessa. Le piace o sente un altro animale più affine? Era Giuliano Ferrara, ma la Pitonessa, nel senso non la moglie del pitone, ma era una divinità che di solito prevedeva le cose che succedevano. Ma a me non dà fastidio niente, se gli altri sono contenti, Pitonessa, Crudelia de Mon. Ecco, l'unica cosa che non vorrei è essere un gattino, perché di solito il circo si fa con le tigri, non con i gatti. Gatte morte qua, guardi, nessuna se me si dice. Esatto, ecco, non vorrei essere una gatta morta. Crudelia de Mon che io disse la Pascale, se non Francesca Pascale. Ma sai che onestamente non me lo ricordo, però è anche uno di quei appellativi che mi è stato dato. Quali sono le altre belve della politica, con fair play, secondo lei? Ma le belve, le donne, se hanno carattere, sono belve. Veramente ci chiamavano iene, siamo anche un po' iene noi, ma non con i maschi, tra di noi. Senza strada tra le donne, dice? Sì, perché io credo questo, le donne sono delle iene. Sì, è vero, perché non abbiamo capito che non sappiamo fare squadra. Le peggiori cattiverie di solito ce le facciamo tra di noi, non ce le fanno gli uomini. Con lei vedo che non c'è bisogno di rompere il ghiaccio, quindi mi dica subito quelle che percepisce come nemiche o che lo sono state in politica con lei. Le mie peggiori nemiche sono sempre state le donne, però siccome io ho fatto un giuramento tanti anni fa, che non parlo mai male delle donne, perché ci pensano già le donne, e quindi vorrei tirarmi fuori da questo, perché nel momento in cui... Me ne dica una, una. No, ma io veramente, io non ho nemiche. La Mussolini la chiamò patata UGM. Sì, vabbè, ma poverina, a me mi fa anche un po' tristezza, un suo vissuto, ha avuto dei problemi. A me che mi frega di parlare male degli altri. Lei le ha detto, sono nata per dividere, non si può piacere a tutti. Lei è più amata o più odiata? Più ammiratori o più detrattori? Secondo me sono divisiva, però al 50%. Nel senso che se... Poi, guardi, se uno non mi conosce, a me la Santa Anche mi sta sulle palle anche a me, quindi voglio dire comprendo, no? Andiamo bene. No, nel senso che se uno magari ha solo di me l'immagine pubblica, capisco che non posso essere una persona. Ma io poi, vede, non voglio neanche essere amata da tutti. Non è quello che mi interessa. E chi l'ama, l'ama perché? Forse perché mi riconosce che sono quella che sono, che sono una persona che dice quello che pensa, che sono una persona corretta, che sono una persona libera. Ecco, userei questo termine. E chi non l'ama, invece, non l'ama perché? Perché sono libera? Perché non sono conformista? Perché l'omologazione è una cosa che mi terrorizza? Credo di essere una raddomante dell'intelligenza degli altri. Ah, però, allora, io le avrei chiesto un pregio, però già ce li ha detti tutta una serie, quindi le chiedo un difetto vero, però non mi dica troppo libera, troppo onesta. Un difetto? Ma io di difetti ne ho tantissimi, sono cocciuta. Quello è un po' un complimento che si fa. Un difetto vero? Un difetto vero? Un difetto vero, ma non lo so, tantissimi, tantissimi difetti. Sono, non lo so, tanti difetti. A me dica uno, faccio lo sforzo. L'hai detto, sono cocciuta, sono, come dire, forse sono egoista. Questo è un difetto. Senta, ci confessi una bella belvata che ha fatto, che poi un po' si è dispiaciuta, però... Sono più suddola. Ah, questo ci piace, ho molta memoria. Aspetto il tempo, però non sono da calcio nello stinco. Si, si deriva al fiume? Sì, non dimentico, non dimentico. Allora, lei ha detto, i miei tacchi sono troppo alti, dicono, ma se i miei tacchi si rimette a Maria Elena Boschi, diventano perfetti. Quello che in me è volgare, nelle altre donne è chic. Allora, come si spiega questa differenza di metro di giudizio? Noi di destra non siamo chic, anche sulla collana di perle, comunque non siamo chic, perché c'è sempre stata questa narrazione, no? Se uno è di sinistra e straccione, è molto elegante. Se uno invece è di destra e si veste bene, è invece molto cafona. Fa parte di quella narrazione. Cioè, a seconda della spiaggia, se vai all'ultima spiaggia a Capalbio, sei intelligente. Se vai magari a Forte dei Marmi, invece sei arricchito. Cioè, c'è questa narrazione di divisione. I tacchi, voglio dire, se li metto io, sono volgari. Se se li mette la Boschi, magari anche di leopardo, ma come chic. E noi ce ne facciamo una ragione. Io me ne strafrego, anzi me ne fotto. Come ritieni, si vestono le sue colleghe di sinistra in Parlamento? Ma io ho visto tante piccole sante anche crescere. Questo è un buon segno o no? Non lo so. Però ho visto quando entrai nel 2001 in Parlamento, a me vedevano a vedermi come quando portavo mio figlio allo zoo a vedere l'orso bruno, no? Come se fosse una specie di animale particolare. perché comunque c'era il tacco medio, cioè l'immagine era Rosi Bindi. E poi invece ho visto la Moretti, la Boschi, potrei fare tanto altro. Adesso loro sono elegantissime, scarpe di lopardi, gonne a tubo, anche se magari hanno un fisico, perché poi bisogna avere anche il fisico. Cominciamo bene. Allora, lei mi citava Rosi Bindi e a questo proposito le voglio ricordare una frase sempre detta da lei. Le donne casalinghe, quelle che a milioni guardano beautiful, secondo lei vorrebbero somigliare a me o a Rosi Bindi? Sì, certo. Questo poi è un po' come l'intercettazione, nel senso che si estrappola una frase. Me lo ricordo bene, era in un contesto. Sì, più ampio ovviamente. Ma io voglio dire, la gente... Ma come la vede Rosi Bindi, lei? La vede una donna capace, intelligente, per la carità, niente di che. Ma voglio dire, da un punto di vista di cannoni, dell'abbigliamento, dire, beh, non è certo quello che io voglio essere. Per fortuna che siamo diversi. Una volta, mi ricordo tantissimi anni fa, il Maurizio Costanzo, che eravamo il trucco, gli avevo detto, vabbè, ma puoi metterti un po' di rossetto. Mi ha guardato come se avessi bestemmiato in chiesa. Perché poi loro devono essere... Le donne di sinistra devono anche essere bella naturale. A me, invece, quando io vengo in televisione, mi faccio truccare, perché la televisione è immagine. Invece lì, ha capito, se la ricordo la melandre, no? Con i gondelloni, i sandali, che non mi ricordo il nome. Però loro sono chic, sono eleganti, sono intelligenti, sono fantastiche. Avrei pagato oro per assistere al trucco, lei che dà consigli alla bimbre. Ma ne avevo solo detto di mettersi un po' di rossetto. A me è stato una bestemmia. Senta, alle ultime elezioni europee, il suo partito, Fratelli d'Italia, è andato molto bene. Lei, personalmente, invece, non troppo. Da che punto di vista? Delle preferenze. Beh, no, se lei pensa, io ho fatto una candidatura di servizio. Sì, servizio assolutamente, infatti, di servizio. Scusi, avevo un leader donna, quindi io, purtroppo, non ho potuto fare il ticket Meloni-Santanchetta, tant'è che basta vedere. Ho cercato di portare voti fuori dalla struttura del partito. Siamo arrivati in quattro, tutti tra otto e diecimila preferenze, per cui io ho fatto il mio. Quindi, insomma, ecco, non lo reputa né un successo né un insuccesso. Non lo reputo che ho fatto quello che serviva a Giorgio Meloni, a Fratelli d'Italia, di gente che ci mette la faccia. Vado a vedere quanti deputati e senatori hanno voluto candidarsi. Senta, qualche anno fa Berlusconi la definì esponente della destra billionaire, o quello che ci stavamo dicendo prima, e lei rispose, sì, Dio è ossessionato da me, ma tanto non gliela do, fu una frase famosissima, no? Ma Berlusconi l'ha mai corteggiata? No, anche perché io non posso essere il tipo del presidente Berlusconi, né per età e né per carattere. Cioè, non sono proprio un tipo che potrebbe piacere. Non posso piacere a Berlusconi, non sono nei suoi canoni. Beh, sull'età è stata cattivella, nel senso che a lui piacciono... Beh, le piacciono le donne più giovani, quindi non credo di essere... Però, devo dire, con me... Ma anche perché poi vede, dipende anche molto dalle donne. Cioè, se una si mette sul mercato, e allora gli uomini forse la possono corteggiare, o possono avere altri atteggiamenti. Io sono una che non mi metto sul mercato. Quindi, devo dire onestamente che non ho mai avuto atteggiamenti di questo genere, né dal presidente Berlusconi, né da nessun altro. Anche perché poi io faccio paura, no? Ha detto lei, sono una belva. Quindi uno magari ci pensa un attimo. Fa paura agli uomini, lei oppure no? Sì, io credo sì, molto. Anche perché gli uomini non possono amare, se non alcune eccezioni donne come me. Lo sanno tutti. Lei ha scelto di tenere il cognome del suo ex marito. E in un'intervista, lei l'avrà ascoltata, comunque lo ricordo, lui ha detto tanto ha spiegato che è stata una concessione in sede di separazione e di divorzio. Perché in quel momento nel jet set tutti la conoscevano come moglie di... E poi ha aggiunto Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome. Sì, come la signora Merkel. Nel senso che lei come sa la signora Merkel. Sì, del marito. Io mi sono sposata a 20 anni, ho lavorato a 12 anni al marchio Santanchè perché quando l'ho sposato io non era un cognome particolarmente blasonato. Ho pagato il mio cognome con un assegno che il dottor Santanchè ha incassato e quindi voglio dire, mi sembrava giusto che era un marchio. Ci ho lavorato a 12 anni e è diventato uno dei chirurghi più famosi d'Italia. Non credo di non avere contribuito a quel successo. Anzi, lei ha contribuito ad accrescere la fama di suo marito, tanto che addirittura Lina Sotis in un articolo del 97, credo sul Corriere della Sera, scrisse una cosa che io mi auguro sia vera perché è stupenda e gliela leggo. La Santanchè affitta, sempre per accrescere la fama del marito, quindi un lavoro da PR eccezionale, affitta una casa in Sardegna e sparge in giro la voce che lei è tutta rifatta e a Milano la signora fa una grande festa che culmina con una torta che la ritrai nuda, tosta e rifatta in marzapane. No, questo della torta no. È vero che la pubblicità è l'anima del commercio, quindi, le ripeto, mi sono sposata a 20 anni e facevo anche credere che fosse rifatta. Ma mi ricordo una volta in spiaggia un bambino mi disse avevo 25 anni, posso toccarla? Dico, ma perché? Dice, perché sai, mia mamma dice che sei tutta di plastica. Dico, sì, effettivamente sono bionica. Però ma che me ne importa? Mi interessa essere amata, essere considerata, stimata dalle poche persone che ho intorno, principalmente dalla mia famiglia. Ecco, a proposito, lei porta la collana con scritto Dimitri e Lorenzo, perché Dimitri è il suo compagno, da non tantissimo, da tre anni. Ecco, è felice? Sì, molto. Perché finalmente ho trovato un uomo risolto. che non devo occuparmi di lui per risolverlo. Prima non era così? No, è la prima volta che trovo una persona che si dedica a me, pensa a me. Mentre invece nelle mie storie tre, quattro della mia vita è sempre stato il contrario, che dovevo mettere a posto gli uomini. Invece finalmente ho risolto questo problema. Ho già dato. E vi sposate? No, non abbiamo mai parlato. Io non... Per me è bello scegliersi ogni giorno. Ma lo sposerebbe? Beh, è sicuramente l'uomo più giusto che ho trovato per me. Questo non c'è ombra di dubbio. Allora glielo chieda subito anche perché così lei diventerebbe la principessa del Pisella. Io sono del popolo. No, però, la principessa del popolo. Però la principessa Kunz d'Asburgo-Lorena. Sì. Beh, ridiamo il cognome a... Ma non è una cosa che mi appassiona molto. Io rimango Daniela Santanché a prescindere. Senta, chi è il bello della coppia? Lei o lui? Lei o lui? Sicuramente lui. Lei è gelosa? Però pensi che non è una cosa che mi ha mai colpito è la sua bellezza. Anche perché più bello... Cioè, la cosa più bella che ha non si vede c'è anche il suo animo, il suo modo di essere. Quindi, io non sono mai stata attratta dagli uomini belli. È gelosa? Guardi, qua, tutte hanno messo cose... Non sono gelosa nel senso perché non mi dà motivo di essere geloso. Lui è un uomo molto serio. Beh, certo, vedessi qualcuno che gli gira intorno, ce ne sono tante perché è un bel uomo, un uomo intelligente. Perché fa lei quando vede... Ma io lascio la briglia molto lunga. E lui è geloso di lei? Sì, abbastanza. Ma un controllino sul cellulare non l'ha mai fatto? No. No. Non è della... Ma sai, io ho vissuto anni una relazione dove era piena di codici, di segreti, di cose. Invece qua siamo molto open. Lui può vedere il mio telefono, io posso vedere il suo. Non c'è questa roba di nascondere, cioè di mettersi codici al telefono, di mettere i vari scudi nel computer. Siamo molto open. Abbiamo deciso tutti e due avendo vissuto altre esperienze che questa volta c'è trasparenza, c'è cose diverse dai rapporti che avevamo vissuto precedentemente. A chi si riferisce? No, in generale. No, non si faccia così la diplomatia che non è lei non la riconosciamo. ma io non parlo mai male nel piatto dove ho mangiato. Senta, però, Patrizia Gruppelli, ex moglie di Dimitri e anche sua ex amica, ha rinunciato, insomma, così così, non così amica mi pare dall'espressione. Non è mai stata, sì, l'amicizia è una cosa seria. Ha rinunciato immediatamente al cognome del suo ex marito, cioè di Dimitri. L'ha rinunciato? Ha scritto anche una lettera aperta a chi, anche molto dura, che lei avrà letto e le rileggo, ci sono uomini che non hanno onore e danno un prezzo al loro cognome, chiedendo soldi per concederlo o per lasciarlo, come fosse un'auto usata. Ci sono donne che comprano il cognome dall'uomo come una crema di bellezza, rinegando così la propria famiglia. Le donne dovrebbero essere indipendenti. Trovo che questo è un elemento più importante del cognome, mantenersi. Questo è già una cosa molto importante. Perché penso che se uno fa delle scelte nella vita, se è giovane, se stai bene, tutto quanto, cioè di vivere coi propri soldi mi sembrerebbe una grande emancipazione. Pagarsi i conti. Ma questo non capisco se lo dice. In generale, è molto bello fare i fenomeni con i soldi degli ex mariti. Ok. Senta, allora comunque poi cambiamo discorso, però la storia con Sallussi che non è finita benissimo come spesso accade nelle storie, però è finita anche in un momento tra copertine, libro, insomma, diciamo che è diventata una cosa mediatica, una storia mediatica. Lei si sente ad aver protetto i sentimenti che accompagnano solitamente la fine di una storia? Beh sì, soprattutto col mio silenzio, perché sono state dette talmente tante cazzate che avrei potuto raccontare la verità. Se devo parlare di Sallussi ne parlo come un bravissimo giornalista, come un grande giornalista, un grande direttore, e poi vede, al di là di tutto, la verità la sappiamo io e lui, e basta. e quindi è una verità che ho consegnato al silenzio. E quindi ecco, non si sente di avere ragioni per chiedere scusa per qualcosa, no? Ma forse qualcuno dovrebbe chiedere scusa a me. Lei ha detto di, nonostante essere libera emancipata, però le piace fare la gesh con, no? Mi spiega come? Ma perché io non mi trovo sminuita per servire l'uomo che amo? Cioè, se gli devo togliere le scarpe, cucinare, occuparmi di lui, togliere le scarpe, insomma, per dire, ma non lo so, fare tutte quelle cose che sai che lo possono gratificare, gli fanno piacere, occuparsi di lui, se in ordine, se nella doccia c'è lo shampoo che vuole, se gli cucini le cose da mangiare che gli piacciono, se fai, gli fai capire l'importanza che ha. Io non mi sento... È un lavoro però, eh? Non è un lavoro, è una dedizione, beh, ma l'amore è una costruzione, Senti, invece il suo dolore più grande nella vita qual è stato? Perdere mio padre. Era un rapporto molto, molto conflittuale, il nostro, anche perché, sai, è brutto quando nasci e sai già che sei una delusione per tuo padre, perché per una fessura nel mio corpo che fossi femmina l'avevo già deluso. E quindi ho passato molta parte della mia vita a cercare di conquistarlo, di farmi amare. E se avesse l'opportunità oggi di averlo per due minuti a disposizione, no? Che cosa gli direbbe? Beh, guardi, io l'ho odiato moltissimo, mio padre perché mi ha reso la vita veramente durissima, è un inferno proprio da 13 anni mandarmi a raccogliere le fragole, a farmi lavorare sempre, a non dirmi mai brava. Quindi avrei voluto una volta sentirmi dire brava Daniela, quando sono diventata deputato per la prima volta e che ho detto papà, mi ha detto vabbè cosa è sta roba, mica ti hanno fatto papà, per dire. Quando mi sono laureata comunque per lui era uno spreco di tempo perché lui era un uomo del fare, aveva un'azienda. Beh, però oggi che comunque mi manca ogni giorno mi piacerebbe dirgli grazie papà. Parliamo di amici o sedicenti tali. Lei è molto amica di briatore oltre che socia al Twiga. Poi uscirono, lei ricorda bene quelle intercettazioni veramente sgradevoli onestamente e non le leggo le parti più fastidiose. Lui a un certo punto dice al telefono se fa una cosa per te la fa in funzione che te un giorno la devi fare il doppio per lei e non leggo il resto. Lei come c'è rimasta visto che è un suo amico o è un suo amico? Ma io sa Flavio lo conosco da quando avevo 13 anni perché sono di Tuneo come ognuno di noi cioè gli amici non sono perfetti gli amici hanno pregio hanno virtù Flavio è Flavio. Ma che gli ha detto poi? Non ci rimane male no? Ah beh gli hanno detto mica poche. E come se tutti noi al telefono diciamo cose un po' esagerate. No ma certamente Flavio ha detto ma no non era così le intercettazioni le però voglio dire Flavio per me è un amico so che in qualsiasi momento c'è lui sa che io ci sono poi le dico può succedere. Sa perdonare? So perdonare? Non so dimenticare. Mi è difficile dimenticare soprattutto le cose che mi hanno ferito profondamente. Ha paura di invecchiare? No non me ne frega niente zero zero ma non ho questa roba della vecchiaia anche perché io sento che devo fare ancora miliardi di cose quindi non mi sento una persona che dice oddio sono arrivati gli anni no forse vivo incoscientemente da questo punto di vista. Le voglio citare una cosa che ha detto qui Simo un'avventura e le ha detto sì io mi curo faccio le dico però a un certo punto mi sono guardata e mi veniva da piangere perché non mi riconoscevo più mi ero accorta che avevo un po' esagerato. Lei si è mai posta un problema del genere cioè di arrivare a un punto che magari uno dice no ma non credo di aver mai fatto niente di esagerazione. Vede quando noi siamo bambini nelle favole che ci raccontavano le avevano raccontate anche lei la strega di solito è brutta è cattiva al poreto al nasone alle cose la principessa è sempre bella no c'è questo connubio anche nella bontà perché se tu non ti piaci ti vedi un mostro esci di casa e sei in cattività col mondo nelle brutte quindi sono cattive ma non è non è una questione di non è esserlo e sentirsi lei che voto si dà in che senso fisicamente si piace che voto si darebbe se dovesse darci un voto ecco un voto giusto a scuola cos'era facevi bella figura se prendevi un sette e mezzo eri bravina o all'università se prendevi un venticinque ma ecco sono in pace con me stessa mi guardo non c'ho il problema degli anni che passano voglio tenermi bene non mi interessa sono amata da un uomo che comunque è più giovane di me e che mi vede la più bella del mondo quindi mi gratifica molto quindi io voglio piacere a lui mica agli altri grazie a lei questo caltaggio in vero non ho capito niente io quando provavo a seguirla era già troppo avanti e abbandonato questo non è mai esistito di fatto da quello che ho capito come la pameluna ma la gente non è normale bravo ci mette a bene a posto le luci che per noi donne sono fondamentali tutti fanno le fighe poi però prendono i soldi del marito io mi sono separata i soldi l'ho pagata è una differenza fondamentale grazie a tutti grazie a tutti